Rai, radio televisione italiana, radio 1. Avvisiamo gli ascoltatori che le trasmissioni proseguono senza interruzione in modulazione di frequenza sul quarto canale della filodiffusione e in onda media sulle frequenze di Roma, KHz 1107 e di Milano, KHz 900. Signore e signori, buon ascolto dell'Inno Nazionale della Repubblica Italiana eseguito dai Berliner Filharmoniker diretti da Claudio Abbado. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rai, gr1 Appello del Papa nel giorno...